benvenuto in questo nuovo video impariamo insieme l'esercizio numero 23 del mio metodo ebook sullo slap chiamato easy slap qui abbiamo un esercizio simile a quello fatto nel 21 con alcune piccole modifiche innanzitutto è in re quindi dobbiamo partire dal tasto 5 della corda di la con il thumb e fare il re basso e poi come al solito ormai da un po di tempo la sua ottava qua andiamo a staccare tutta la prima battuta viene data come staccata abbiamo delle note prese in levare di ottavo soltanto strappandole quindi dopo aver fatto il re noi contiamo un do un si un da quindi la prima battuta esce così come hai sentito le ho suonate tutte staccate perché se le avessi suonate come senza lo staccato la nota acuta sarebbe durata più tempo cosa che propongo di fare invece nella seconda battuta nella seconda battuta che è molto simile io ho sempre re il do il si ma poi sul quarto quarto ho un per ripartire uno strappato in emmeron tra il sol e la quindi attenzione anche a questo movimento io ho l'indice sul sol vado a strappare fare un emmeron sul sul la e poi ho subito l'inizio del giro dopo quindi allenati anche a fare proprio questo movimento perché se lo pensi soltanto così poi dopo vai a perderti il battere che c'è quindi non devi tanto vederlo così ma come conclusivo sulla nota re conclusivo in realtà ti fa ripartire questa seconda battuta la metto senza lo staccato superiore quindi le suoniamo come te l'ho fatto sentire prima staccato c'è una sottile differenza però cerca di farla sentire come esercizio ti consiglio anche di fare prima tutto legato e poi tutto staccato e poi una battuta una battuta in questo modo migliorerà all'inizio ti concentri su una tecnica quindi lo staccato oppure il tenerlo così come è scritto dopo invece ti concentri sul controllo per dire tu se la nota è staccata oppure viene suonata più lunga come è scritta proviamo ad andare a suonare insieme a una velocità più lenta così puoi suonare insieme a me mettiamo il metronomo a 80 1 2 3 e 4 tutto staccato tutto legato tutto legato come è scritto bene io ti auguro un buon divertimento grazie per aver seguito il video grazie per mostrare interesse per i miei metodi e noi ci vediamo al prossimo ciao a presto ciao a presto